Contatti fittissimi e telefono bollente per Alfio Pelliccioni in questa prima decada di giugno. Il DS del Cesena è impegnato giornalmente con Francesco Modesto a ricostruire un cavalluccio da zero. Infatti il neotecnico, dopo aver scaricato senza troppi giri di parole i senatori Ricciardo, Alessandro e Fortunato, ha confermato solamente il terzino sinistro Emanuele Valeri, già ufficializzato per lui un contratto con formula biennale. I prossimi certi a mettere nero su bianco il rinnovo in Rival Savio sono Federico Gliardi, Andrea Cioffi, Capitano e Giuseppe De Feudis. In ritiro saranno valutati i baby campagna e Zammarchi e solo a metà luglio si capirà se potranno far parte della spedizione che affronterà la Serie C oppure se ceduti in prestito, destino che invece avranno di certo Poggi, El Buali, Andreoli e Casadei. Nel limbo e con una chance di restare ci sono anche Cappellini e Tortori che ha in tasca un biennale, i due trequartisti si giocano quindi la possibilità di continuare l'avventura in tinta bianconera. Tutti gli altri sono invece liberi sul mercato e potranno casarsi altrove. Nella testa di Modesto, oltre a rinforze di peso che per forza di cose dovranno arrivare, c'è anche la figura di Davide Munari che interessa parecchio, ma Pelliccioni dovrà poi parlare col Torino titolare del cartellino.